Ciao e bentornati dal vostro Lorettec. Qualche giorno fa ho acquistato dei prodotti su Draco.it. Come dici, non conosci Draco? Vieni con me che te lo mostro subito. Draco.it Extreme Modding, il sito numero uno in Italia se vuoi acquistare componenti per PC. Qua troviamo una vasta scelta di brand per assemblare il tuo PC. Alcuni esempi? Schede madri Intel, schede madri AMD e non solo, ma anche una vasta scelta di processori sia di casa Intel che anche di casa AMD. Monitor adatto a tutte le tasche e a tutte le esigenze. Non dimentichiamo la sezione promozione dove ogni giorno vengono aggiunti dei prodotti. Potete acquistare anche negli store nella sede di Milano e di Mantova oltre 6.000 articoli a catalogo. Una vasta scelta di case per tutte le nostre esigenze. Anche una vasta scelta di schede video che siano AMD o che siano Nvidia. Concludiamo inoltre con una vasta scelta di dissipatori a liquido anche per le nuove piattaforme che sia AM5 o che sia Intel di dodicesima generazione. Non dimentichiamo inoltre la nuova sezione novità dove ogni giorno vengono postati tutti i nuovi prodotti usciti sul mercato. Acquistare è veramente semplicissimo. Iscrivetevi al sito, aggiungete a carrello i vostri prodotti, pagate con il vostro metodo di pagamento preferito e in pochi giorni riceverete i vostri prodotti. Comoda la possibilità di poter tracciare costantemente e giornalmente il vostro pacco. Ma adesso è arrivato il momento di scoprire che cosa acquistate il vostro Lorettec. Prima di cominciare con l'unboxing volevo farvi vedere un attimo la confezione. Imballaggio brandizzato Draco.it qui con il draghetto. Anche lo scotch brandizzato. Per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici. Vediamo cos'è il contenuto nella confezione. Abbiamo già due piccoli spoiler. Questo è il primo e questo è il nostro pezzo forte. È talmente grande che non entra nell'inquadratura. Imballaggio devo dire veramente ottimo. Tiriamolo fuori. Lo mettiamo un attimo da parte. E cosa troviamo ancora al suo interno? No, delle caramelle gommose. Cioè ragazzi, veramente incredibile. Grandi Draco. E poi cosa abbiamo qui? Aumenta il grip del gamepad, mouse e tastiera. Proviamo a leggere meglio nel dettaglio. Versalo sulle mani, strofina, lascia asciugare e gioca. Direi di cominciare con il primo prodotto di casa Corsair. Qua abbiamo l'anteprima, un kit di cacciaviti di precisione. Qua abbiamo il cacciavite, la prolunga e tantissime punte. Modello PC DIY Precision Toolkit. Lasciate perdere la mia pronuncia. Dovrebbero esserci, se non ricordo male, 65 punte diverse. Sulla destra, qua abbiamo di nuovo l'anteprima della nostra box. Secondo prodottino. Dissipatore a liquido di casa EK. Modello EK Necleus CR240 Dark. 240 sta per la dimensione delle due ventole, da 240 mm, compatibile sia con Intel che con AMD, soprattutto con la nuova piattaforma AMD AM5, completamente nero senza LED. Ha una grande particolarità, quella di poter spostare il logo EK a nostro piacimento in base al suo posizionamento. Dovrebbe garantire sulla carta prestazioni veramente incredibili. E qui la possibilità di poter ruotare, come vi dicevo, il logo. Boost your PC in style. Vediamo anche la parte posteriore con l'anteprima del nostro dissipatore a liquido. Molto molto particolare. Ragazzi, non vedo l'ora di fare l'unboxing di questi due prodotti tech e di andarli a testare e provare. Adesso però voglio sapere la vostra. Conoscevate il sito Draco.it? Avete acquistato sul loro sito? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nei prossimi video vedremo l'unboxing e l'installazione del nuovo dissipatore di casa EK e approfondiremo anche il nuovo set di cacciaviti di casa Corsair. Io intanto mi mangio le fruttella. Da Draco.it, l'ortec era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Mmm... Spaziali! Ciao! Grazie a tutti